aspettiamo che entrino le prime persone intanto come ti ho già detto anche off camera ti ringrazio nuovamente e raccontami un po questa nuova veste di comunque non solo giornalista ma anche influencer vedo che anche sulla pagina sport mediaset sei spesso in diretta comunque sì sulla pagina sport mediaset che poi condivido sulle mie sono in diretta tutti i giorni alle tre guarda è iniziato l'anno scorso poi ha preso vigore quest'anno con il lockdown mi sta dando soddisfazione soprattutto il fatto di avere così un contatto continuo con domande un po ripetitive domande un po ripetitive però ogni tanto viene fuori anche qualcosa di carino di interessante di divertente qualcosa anche su cui riflettere per carità insomma tante cose guarda è successo anche a me perché io comunque ho sempre fatto solo video ho iniziato con la fase 2 in realtà del lockdown neanche con il lockdown e capisco che le persone non siano sempre in live con noi e quindi non riescono sempre a seguire e quindi le domande diventano ripetitive per quello esatto si diventano ripetitive però ti chiedo ma come è cambiato il tuo mestiere l'approccio perché è diverso da scrivere o raccontare davanti a una telecamera davanti a un computer guarda è diverso è chiaro che io ho iniziato con la stampa scritta quando tu non eri ancora nato e secondo me il 99% di quelli che sta guardando questo video non eri ancora nato può essere stampa scritta che io scrivo su tutto sport il primo giornale in cui ho scritto ed era completamente diverso per mia fortuna ho avuto dei passaggi intermedi che mi hanno in qualche modo aperto cioè un giornale che ha fatto soltanto stampa scritta e adesso si ritrova in questa situazione social chiamiamola semplicemente social credo che si possa trovare un pochettino in difficoltà io facendo il passaggio un po' di radio e anche tanta televisione diciamo che ho fatto delle tappe internet anche quindi ho fatto delle tappe credo di lottare per restare al passo con i tempi anche se obiettivamente non è semplice però l'importante è prenderla con il sorriso sapendo benissimo che anche le stesse gerarchie di giornalisti di influenze di chi viene ascoltato sono completamente diverse come è giusto che sia eh sì allora intanto ringrazio un ragazzo che ha rinnovato l'abbonamento al mio canale Twitch grazie Bala e io mi sono documentato su quello che hai fatto la tua esperienza tra l'altro ho visto che sei stato promosso proprio a Tutto Sport nell'anno in cui sono nato nel 92 e a proposito di internet tu ti sei approcciato al digitale o tra virgolette approcciato con un certo giocatore con Ronaldo sì Ronaldo però non Cristiano ma il quello vero come si dice molti dicono quello vero è molto ingeneroso nei confronti di Cristiano dire quello vero sono d'accordo è molto ingeneroso visto che comunque ho la possibilità anche di riportare una testimonianza diretta ti posso dire che Ronaldo del Barcellona e del primo anno all'Inter era superiore anche al Cristiano ma nettamente come è stato superiore a tutti proprio certo Ronaldo successivo al Barcellona e al primo anno all'Inter è stato un campione comunque immenso ma non superiore ad altri campioni anche contemporanei che ci sono adesso io non ho avuto il piacere in realtà di vederlo giocare quel Ronaldo o almeno sì ma al Milan quindi nella fase già non è Ronaldo era un altro giocatore guarda tanto parliamone era un giocatore da Playstation quindi quelli che proprio quando inizia a giocare con la Playstation ai nuovi giochi solo con il tuo c'era il gioco di Ronaldo il gioco della Playstation di Ronaldo proprio sì forse sì forse sì forse sì comunque giochi e con quel con quel giocatore li scarti tutti e se ne fai colla ecco lui uno due o tre volte a partita faceva proprio quella cosa lì ecco e devo dire che saranno ricordi bellissimi anche pensarci adesso e poter fare il confronto tra tutti e due ringrazio anche Daniele per l'abbonamento grazie mille per il rinnovo se li faccio per visto che tu è molto attuale molto contemporaneo sì Ronaldo in carriera il gol di Rabiot ok dell'altra sera l'ha fatto una decina di volte ecco io al gol di Rabiot ripetuto per credo le hanno contate 27 volte no perché non ci potevo credere secondo me all'epoca con Ronaldo non si ripeteva 27 volte no si diceva ancora un altro basta e a proposito io la prima volta che faccio la diretta post Milan Juventus devo dirti la verità è stato complicato anche capirla quella partita io forse non l'ho capita tu ne hai capito qualcosa allora col mestiere che mi deriva da tanti anni anche prima del 92 quando tu sei nato ok con le parole si può giocare e si può anche andare oltre la frase che ha detto Sarri che secondo me è una frase di sincera ignoranza ignoranza nel senso non adesso come termine giovane no no certo certo italiano italiano è un blackout è un blackout e non si spiega un blackout e non si spiega poi si può riflettere ecco su un blackout ma trovare una spiegazione su un blackout non c'è dimmi da che cosa vuoi partire perché poi c'è una spiegazione da Scesni fino all'ultimo che è entrato a Murattore capito ok volendo andare si trova una spiegazione su tutti dimmi da chi vuoi partire io ho trovato un denominatore comune che secondo me è un po' preoccupante quattro punti essenziali di questa annata che è la prima di Sarri e la Juve che sono supercoppa con la Lazio sì lione sì finale coppa italia con il napoli mila tutte le volte o ti giocavi la finale di un trofeo o il momento decisivo per alzare un altro o il momento per avanzare per poi vincere un altro quindi tutte le volte che sei arrivato lì qualcosa è successo guarda io dovrebbe essere il contrario però invertiamo i ruoli a rincuorare i tifosi della Juventus dicendo che però in questo percorso ci sono state anche le due partite con l'Inter sì questo è vero e ci ho pensato ti giocavi il primo posto in classifica capito quindi ti giocavi qualcosa di importante poi io guarda la partita con l'Ione la squadra era veramente scarica secondo me la partita con l'Ione è stato il punto più basso della stagione veramente il punto più basso la partita con la Lazio di supercoppa è stato un risultato assolutamente meritato per la Lazio invece la finale di Coppa Italia ha comunque l'attenuante del post lockdown arrivando a quello che è successo ieri sera la cosa più semplice da dire dice sai l'episodio del rigore ti cambia la partita quello che devo dire con obiettività che anche il gol di Rabiot e il gol di Ronaldo sono due episodi è certo però siccome Rabiot non è il fenomeno quella di scelta che in quei due tunnel con la serpentina e il tiro all'incrocio non lo rifarà lo rifarà in allenamento magari ma non tutte le volte e il gol di Ronaldo e la difesa del Milan che è proprio impazzita si scontra in due quindi oltre quell'episodio perché se spenta la luce non c'è il pubblico non c'è cioè non sinceramente faccio fatica a trovare delle spiegazioni una spiegazione abbastanza vintage è che comunque in certe situazioni chi deve prendere in mano la squadra è uno tipo Bonucci invece Bonucci di fianco a Rugani è un altro giocatore di fianco a Rugani è un altro l'hai detto con grande sintesi è anche abbastanza impietosa come sintesi però è così l'hanno visto a Milano cioè se ne sono accorti proprio completamente che con Chiellini era un giocatore cioè con Delete quest'anno è fenomenale Bonucci forse è il miglior Bonucci dell'anno ma con Delete di fianco sì perché perché ha bisogno ha bisogno di togliersi anche secondo me un pochino di autoreferenzialità cioè quella sua posa che capito io scherzando forse non è anche la classità appropriata per scherzare troppo però capito scherzando sembra il discobolo sai quelle statue del discobolo è vero ce l'ha cioè io non capisco perché la fa sinceramente non capisco perché la fa ma la fa più una volta a partita quando poi quando poi ti fa capito golla resti nelle fotografie in quella posa lì mi sembra che insomma non non lo capisco sicuramente non lo capisco e invece in certi momenti dovresti essere quello che tiene su tira sulla testa degli altri quando iniziano a guardarsi i piedi oppure dà qualche stecca anche quando gli altri sono un pochino più timorosi cioè fa più il leader capito si è leader nei fatti non a parole sì lo dico banalmente alla fascia di capitano al braccio tra le altre cose cioè non è una cosa non è un scherzo anche quando gioca buffon non c'è la buffon sì è vero tu non hai il dono della sintesi caro Luca penso questo faccia piacere a chi ti sei in realtà non è così faccio dei video da mezz'ora per dire niente oggi va così è anche vero che comunque è vero con l'Inter doppia volta che l'hai incontrata e ti giocherai il primo posto molto bene con la Lazio due volte che l'hai incontrata è sembrata superiore poi questa è un'altra Lazio secondo me questa è un'altra Lazio completamente una squadra differente è un'altra Lazio perché comunque questo è un altro campionato è un torneo un super torneo estivo con delle variabili secondo me di preparazione atletica e di temperatura che comunque stanno sperimentando i medici i preparatori atletici esatto l'ampiezza della Rosa non gioca tanto a favore della Juventus perché poi gioca sempre gli stessi 11 di fatto ti dirò non ho i dati in mano però giocano fin troppo gli stessi 11 se posso permettermi dalla finale del Coppa Italia in poi si cambiava il portiere o il terzino e sinistro esatto fin troppo gli stessi 11 non vorrei che questo comportasse un pentimento o un ravvedimento quando ormai è troppo tardi anche se io poi sinceramente non ho fatto i conti proprio nella live su Mediaset che faccio ho fatto i conti alla Juve basta fare 4 punti nelle prossime 3 partite si fa 4 punti nelle prossime 3 partite e poi vince lo scudetto ma infatti obiettivamente 4 punti nelle prossime 3 partite no certo se non le fa merite non merite vince lo scudetto no no indubbiamente cioè togliamo magari quella di sabato che forse è la partita più bravo cattiva forse anche più dello scontro diretto leggevo oggi l'Atalanta insieme a Real Madrid e Bayern Monaco sono le uniche 3 squadre da post lockdown che hanno vinto tutte le partite che hanno giocato neanche 3 squadre in assoluto vuol dire qualcosa vuol dire qualcosa vuol dire che c'è una squadra forte che è un allenatore bravo che c'è una come si chiama una qualità che va oltre il pensiero comune cioè sarà che rendono così tanto con Gasperini però comunque con Gasperini Papu Gomez Ilicic non quello di ieri sera ma in generale Zapata e Mure sono quattro grandi giocatori poi hanno adesso a luglio si sta giocando a ritmo basso porti il pallone praticamente vicino all'area avversaria lì Di Bala Ronaldo fanno qualcosa sono delle partite che sembrano delle esercitazioni di allenamento in generale attacco contro difesa soprattutto nei secondi tempi no allora siccome la Juve sulla carta e sul campo ha il miglior attacco il campionato la miglior difesa del campionato è normale che le vinca attacco non dici numerico dici di qualità dei giocatori di qualità dei giocatori questo dicevo almeno fino all'altra sera alle 21 e 44 quando poi è iniziata la partita con il Milan pensavamo tutti forse prima adesso 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 nelle oscillazioni d'umore e di commenti e di critica ma è normale è normale tu prima mi chiedevi qual è la differenza rispetto al lavoro che facevo prima il lavoro che facevo prima praticamente per tutti fino a 15 anni fa era che tu scrivevi qualcosa sul giornale o dicevi qualcosa in televisione per avere poi le reazioni aspettavi il giorno dopo e il giorno dopo ancora tempo reale qua qui adesso è real time veramente siamo live in qualsiasi momento subendo le reazioni del pubblico ma anche attivamente dando dei pensieri delle opinioni dei riscontri che poi magari sui quali magari poi ci dobbiamo correggere altrettanto velocemente sempre in diretta guarda prendo il two assist l'altra sera ho fatto la diretta proprio di Milan Juve tra l'altro solo il secondo tempo il primo tempo non ero a caso visto solo gli ultimi 20 minuti mi collego sembra un copione scritto apposta mi collego gol di Rabiot incredibile dopo due secondi gol di Ronaldo e tutti ecco l'Alazio che ha perso adesso facciamo il terzo facciamo il quarto facciamo il quinto sembrava abbiamo vinto lo scudetto vinciamo la Champions dopo 15 minuti eravamo già ai Sarri out così proprio da vinciamo la Champions del Sarri out quanto diavolo cambia in fretta il giudizio ed è anche complicato in realtà cercare dopo di riportare la calma perché ovviamente permetti che uno si collega solo quando il Milan fa 4 gol dice la Juve è andata in vantaggio per caso invece io sono parzialmente d'accordo con Sarri c'è stata una buona prestazione per buona parte ripartita e poi lì si pentola la lampadina proprio una cosa che se no non posso spiegarmi ti faccio una domanda che viene dalla chat vai con questa nuova predisposizione con tutto quello che è accaduto con lockdown e via dicendo non siamo solo inediti nel campionato siamo inediti anche nella coppa che è un po' il nostro pallino purtroppo è la nostra sessione chi è che viene vantaggiato da questa cosa? allora difficile sì è difficile io ho capito sono domande che dal dal bar dal caffè del mattino al bar o alle relazioni reali concrete virtuali sociali eccetera eccetera io la premessa che faccio è non ho esperienza non ho background per dire chi non ce l'ha nessuno credo esatto bravo non ce l'ha nessuno al mondo quindi in teoria chi viene avvantaggiato chi viene svantaggiato sono il Lion e il Paris Saint Germain ok è certamente ovvio sulla carta logica te dici non si allenano non giocano non si allenano non giocano arriveranno lì alla prima partita e saranno comunque in una forma esatto in teoria in pratica come arriverai a questa final 8 perché poi stiamo parlando di una Champions che ha un'evoluzione veramente molto diversa questo è un super torneo che si giocherà a Lisbona e in pratica io credo che alla fine considerando che si giocherà ad agosto ci sarà un pochettino di clima più ventoso e mite magari a Lisbona ma comunque ci sarà sempre un grande caldo io credo che sarà privilegiata comunque la tecnica i giocatori più tecnici e di conseguenza io City Bayern Juventus e Paris Saint Germain capito io non vedo le altre quattro squadre non hanno la stessa tecnica certo nemmeno Barcellona nemmeno Barcellona tra l'altro loro Rosa Corta ancora peggio di noi esatto ma poi in un periodo in un periodo di declino secondo me che già già il Napoli può sperare sì sì ma io sono d'accordissimo perché prima del lockdown ho detto secondo me con il Barcellona che aveva tipo 12 giocatori di movimento da poter scherare diventa complicata e infatti a me ha fatto ridere io durante il lockdown non ne ho parlato di calcio mi sono preso vacanza perché ho detto non ci intri di parlare non ne parlo è fatto bene però dicevo una roba abbiamo cambiato allenatore nell'unico anno in cui probabilmente ci serviva quello vecchio perché quello vecchio aveva una mentalità le partite le risolvano quelli forti con la tecnica mi dicevi te con l'intuizione sì e infatti questo tipo qua adesso ci assomiglia secondo me sì guarda secondo me sì secondo me sì perché poi io durante l'anno ho trovato abbastanza controproducenti alcune operazioni di mercato tipo le cessioni di Ambreciane e di Mandzukic sfondi la porta aperta esatto però sul fatto invece della allora Allegri viene dal dal basket nel senso che a Livorno il basket era soprattutto una religione nel basket effettivamente quando c'è l'ultimo pallone le basket sono delle partite di 40 minuti che per 39 minuti puoi anche andare al bar come facevi hai fatto tu l'altra sera o essere fuori poi arrivi l'ultimo minuto e si decide tutto ma quando in che modo si decide tutto quando le due squadre se sono punto a punto fanno uno schema tale un'organizzazione un'azione tale un'organizzazione tale per dare il pallone a Michael Jordan rido perché è una citazione incredibile una cosa ormai diventata virale per Allegri questo concetto una clip lo so però è così però è così quindi capito nel momento è così cioè durante il lockdown io ho visto su Netflix The Last Dance ok per chi non l'ha visto guarda è basket tantissimo tantissimo ma io non so niente di basket cioè è zero o meno di zero ti piace anche se non sai niente di basket ok vedi che il campione il numero uno della squadra ti condiziona in positivo ti trascina ti orienta ti è tanta roba è tanta roba anche in una cosa però cioè Michael Jordan tu non sai niente di basket però faccio una cosa che è comprensibile ho visto Space Jam con Michael Jordan è un cartoon è un cartoon Michael Jordan in certi momenti pallone decisivo dici un attimo prima diceva qui marcheranno tutti me e io la passo a te e sei libero pensaci te guarda che nella sua l'ho detto veramente in maniera basica in maniera semplice ma ci hai capito però è questo ho capito cioè l'ultima azione il momento decisivo il campione te lo determina ecco perché io dico che comunque se hai in squadra in queste condizioni Cristiano Ronaldo e Dybala io credo che anche a Lisbona la Juventus possa arrivare a giocarsi a chi c'è di gioco chi ha più qualità la Champions qualità quello che dici è palese se pensiamo proprio al Milan prima e dopo Ibrahimovic sì sì è vero cioè è incredibile come solo avere Ibrahimovic li abbia rigenerati cioè da quando è arrivato Piore e Ibra questi sarebbero i Champions sì 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 ma al di là di l'allenatore poi è uno che aiuta i giocatori a tirare fuori il meglio di sé coccolando gli dandogli magari qualcosa di più di diverso un rimprovero cioè è una gestione Ibra sai Ibra non è più assolutamente quello che era va più piano in campo però quando è come sai se ti trovi faccio un esempio molto se ti trovi in discoteca c'è un amico grosso no e vedi che scoppia una rissa da una parte lo chiami se c'è un amico grosso lo chiami no è vero è verissimo la dinamica è quella capito cioè io ci provo a fare una giocata tanto se capito poi Ibra mi protegge anche se non è esattamente così però dal punto di vista dell'umore della folla ti aiuta ti aiuta guarda sempre dalla chat quindi tanto smircio cosa mi dicono intanto c'è qualcuno che mi dice se te ne intendi di Ippica un'altra citazione e lei colta al volo a me ha fatto ridere Sarri che in Coppa Italia fa tutte quelle sostituzioni insieme e alla fine della partita nell'intervista post partita dice ho fatto una cazzata perché ne ha messi dentro tre tutti in una volta però anche le cinque sostituzioni per quanto sembrino banali secondo me rendono ancora più complicato il calcio come la vedi questa cosa qua cioè cosa cambia sì guarda io ero uno di quelli che in maniera molto retro dicevo guarda tanto non cambia nulla perché già le tre sostituzioni o mai ero fatto una statistica all'ultima sostituzione arrivava praticamente al novantesimo per perdere tempo e quindi invece avevo sottovalutato il caldo e avevo sottovalutato il fatto sì avevo sottovalutato il caldo perché la Lazio è stremata la Lazio è stremata proprio e e quindi le cinque sostituzioni servono e quindi il secondo tempo giochi un'altra partita giochi cioè puoi giocare veramente due formazioni diverse qua molto diverse capito e se hai un'ampiezza di puoi cambiare in metà puoi cambiare in metà sì e non è non è poco e soprattutto se hai dei giocatori ora guarda siamo sulla Juventus quando esce Bernardeschi e dentro Douglas Costa ci sono caratteristiche veramente quasi agli estremi capito quando e lo stesso si può fare su altri su altri giocatori e se hai un'ampiezza a saperlo prima che sarebbe andato a finire così e che ci sarebbero state le cinque sostituzioni sono convinto che non solo la Juve ma tante altre squadre avrebbero dato delle avrebbero messo in squadra avrebbero acquistato avrebbero non ceduto avrebbero così giocatori proprio da caratteristiche molto diverse perché è una bella arma da giocare due già citati prima sì ma non so che sembra ci avrebbero pensato un po' di più forse perché lì come te la spieghi perché lì sembrano quasi stati spinti fuori rosa e non credo da Sarri cioè io faccio sempre un po' fatica a dire che arriva a Sarri la Juve e dice no tu sei brutto tu sei brutto non vi voglio mi puzza guarda anch'io la penso la penso così poi allora da un lato c'è un aspetto tecnico e l'aspetto tecnico che è stato nettamente sottovalutato di Manzupic non è stato quello del suo apporto offensivo quello suo apporto offensivo si misura con le statistiche tipo gol e assist l'apporto che è stato dimenticato da da su Manzupic è se ti ricordi all'inizio della stagione la Juventus prendeva un sacco di gol da calcio d'angolo una marea ricordi una marea bravo tutti a dire marcatura zona marcatura uomo ragazzi che l'anno scorso si pentevi Manzupic sul primo pallo e rispingeva lui perché ora non voglio fare un'altra citazione però certe cose sono semplici capito è tutto molto semplice ormai qua Manzupic di testa sul primo pallo e pigliava lui e non facevano capito almeno a memoria non mi sembra e quindi con questa situazione adesso con queste cinque sostituzioni anch'io sono convinto che in qualche modo l'avrebbero ricomposta sul perché ci sia stato questo dissidio con la società comparatici non lo so e sinceramente non me la sento neanche di dar tutta la io da estimatore di Manzupic però non me la sento di dare tutta la colpa alla Juventus perché comunque Manzupic lo capisce anche uno che lo vede per la prima volta non per strada perché per strada non l'ha mai incontrato nessuno mister no good mister no good cioè obiettivamente è uno difficile da 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 gestire da starci attaccati insieme eh sì mi ricordo un Juventus Bayern Monaco dove uscimmo poi dalla Champions con quelle bra che non l'ha spazzata Manzupic non stava bene ma a tutti i costi ha voluto giocare ha voluto entrare abbiamo giocato non in meno purtroppo ma anche Allegri l'ha detto lui voleva entrare e ha detto che poi per una settimana non ha rivolto la parola a nessuno bravo perché si sentiva colpevole bravo ti ricordo in particolare che so con anch'io con ancora più particolari è stato per una settimana non ti dico in lacrime ma quasi che ci teneva tantissimo e beh ci teneva tantissimo anche perché era la sua ex squadra esatto capito quindi lui entra non la becca mai fa più danni della grandine l'allenatore dice vai avanti e quello tornava in difesa non ci capiva più nulla quando se ne è reso conto ha avuto una reazione che però l'ha reso molto più umano e apprezzato dai compagni perché ha avuto la reazione di uno veramente incavolato e disperato assieme anche da noi tifosi è uno che ci tiene idolatrato tantissimo cioè si vedevano queste cose io tra l'altro sui calci d'angolo sfondi una porta aperta perché in pochi giorni mi sono fatto Juventus-Napoli 4-3 che mi sembra una partita parallela quella con il Milan tra due golette di Follivia non capivo cosa stavo guardando e Madrid ero a Madrid per Atletico-Juve che anche lì vinci 2-0 poi prendi due gol di testa calcio piazzato però la Juve sembra essersi un po' evoluta sotto quel punto di vista addirittura è arrivata ad essere la miglior difesa paradossalmente non riesco a spiegarmela è De Ligt? sì è De Ligt è De Ligt secondo me ma De Ligt ha avuto la sfortuna tipo come Paperino ogni pallone gli sbatte sul braccio nell'anno in cui c'è questa regola che secondo me è assoluta tra l'altro esatto però De Ligt è un ottimo giocatore cioè De Ligt è il difensore dei prossimi dieci anni dei prossimi dieci anni De Ligt capito e poi sai lui aveva già personalità nell'Ajax che d'accordo nell'Ajax è una cosa tutta particolare perché il settore giovanile identità di squadra però comunque essere leader a 19-20 anni nell'Ajax vuol dire che i requisiti ce l'Ajax ce lo ricordiamo bene ci lo ricordiamo bene noi infatti quella sera i due che vanno a saltare su De Ligt che colpisce testa sono se non sbaglio Rugani proprio un Rugani sicuro Rugani è sicuro l'altro non me lo ricordo l'altro non me lo ricordo Rugani di testa fa fatica ma sai poi De Ligt è un ragazzone di quasi due metri perché se quando fa il terzo tempo e poi stacca e riesce a colpirla con la fronte ragazzi lo devi marcare bene perché se no se gli lasci facci quello spazio lì e sei fregato io ci sono stato di fianco a De Ligt e mi sentivo un nano sentivo la persona più piccola del mondo ero lillipuziano un pupo e qualcosa del genere ero impressionato e poi secondo me De Ligt è il tipico colpo di mercato cioè la Juve l'anno scorso se avesse voluto andare a migliorare un reparto non doveva andare a migliorare sulla carta la difesa doveva andare a migliorare per forza di cose del centrocampo però secondo me lì si sono veramente detti questo è troppo forte sì è vero e quindi la spesa di 80 milioni vale la candela di dire anche se non mi serve devo prendere lui condividi? no condivido cioè al di là del detto no chi più spende meglio spende io credo che 80 milioni vadano assolutamente divisi negli anni di carriera che De Ligt garantisce certo e quindi la 70 75 80 quelli che sono stati ma se tu li dividi per gli anni di carriera che De Ligt garantisce da top player top defender chiamiamolo da top punto e credo che sia il prezzo allora il Liverpool dici che c'entra il Liverpool no c'entra ho già capito cosa vuoi dirmi ma ok vai ha preso Van Dijk e ha speso più di De Ligt ma attenzione poi il Liverpool va in finale di Champions e la perde con il Real Madrid perché importa quel povero ragazzo Carius che faceva tenerezza l'anno dopo prende Alisson è semplice puro Alisson normale fa 5 o 6 parate normali in finale e il Liverpool vince la Champions League capito ecco ecco perché io dico De Ligt pensando comunque all'età di Bonucci all'età di Chiellini è un acquisto che io secondo me è tanto di cappella la Juventus veramente io ho un un popolare opinion tra l'altro su questa cosa io sono dell'idea cioè lo ero già l'anno scorso nessuno ha maggior ragione sul prossimo anno dopo quello che è successo a Chiellini che l'anno scorso avrebbero fatto fatica a capire chi erano i titolari e forse tra tutti e tre parlo di De Ligt Bonucci e Chiellini sarebbe stato proprio Chiellini quello più a rischio e con De Miral che arrivava dietro tra l'altro sì 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 no no ma ma certo era tutto da vedere però io se devo fare la classifica dei titolari della Juventus in difesa del primo è De Ligt poi gli altri dopo se ne ragiono e questo significa molto ancora meno è il prossimo anno certo 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 quindi la vedo così ma è un po' impopolare come cosa tra l'altro a Juve in questo momento è un po' vai vai scusami è un po' impopolare è un po' impopolare perché comunque Chiellini identifica molto capito rappresenta l'attaccamento le cose la dedizione e devo essere sincero cioè allora Chiellini si è spasciato il ginocchio non so la diagnosi esatta e ha recuperato molto in fretta il fatto che si sia rinfortunato malgrado i due mesi di stop e quindi fai fisioterapia nei due mesi di stop praticamente fai l'entrima e poi ritorni in campo e ti rinfortuni tanto da non essere disponibile è un brutto segnale per l'anno prossimo io la Ferrara l'ho visto giocare quando è tornato titolare infatti rivederlo ancora indietro post lockdown un po' preoccupa è un po' preoccupa questo rinnovo sembra più è una cosa di riconoscenza non possiamo provarci anche di Chiellini a livello di spogliatoio bravissimo secondo me hai indovinato io purtroppo lo vedo così poi ovvio che se le gioca tutte sono sempre contento perché Chiellini ci sono molto molto affezionati e in questo momento tra l'altro a Juve il rosa ha i suoi tra i suoi top 10 acquisti più cari della storia ne ha almeno 5 4 mi viene in mente Ronaldo De Ligt Buffon Higuain e arriverà anche Arthur che è un altro di quelli quindi vuol dire che la Juve sta iniziando a spostarsi verso una dimensione molto molto europea molto molto anche spendacciona se vogliamo però in uscita tipo Pjanic per noi è un capolavoro a livello economico a livello economico sì sul punto di vista del campo invece non lo so perché io non conosco Arthur non ho idea ma guarda anche io l'ho visto poco anche tu sì anche io l'ho visto poco al Barcellona c'è una situazione abbastanza anomala un giocatore come Arthur perché è una malignità però insomma a pensare male si fa peccato però a volte ci si indovina soprattutto se ti arriva a Barcellona chi gioca in attacco lo decide Messi chi gioca al centrocampo lo decide Busquets chi gioca in difesa lo decide Richie splendido e Arthur non era proprio nelle grazie di Busquets quindi c'era per quello quindi che non giocasse non ferra poi quanto conta essere stimato dai compagni essere stimato dalla società essere in sintonia con l'ambiente eccetera eccetera c'è giocatori che sono più o meno sensibili quindi io sulla sensibilità di Arthur non ho nessuna cognizione sulla sensibilità di Pjanic basta guardarlo in faccia cioè Pjanic da quando ha saputo che andava al Barcellona hai ricominciato a giocare a calcio sì ma è comunque uno che lo vedi lo vedi in faccia che comunque è come dire è malinconico no no ma se mi sa piangere abbiamo visto il video in cui piangere sì è malinconico è malinconico e ma non lo so credo che dal punto di vista economico e finanziario sia una grandissima operazione dal punto di vista tecnico come non lo conoscete Arthur non lo conosco bene neanch'io io sto parlando con troppi proverbi che non mi piace su luoghi comuni però non sai quando lasci non sai quel che trovi quando lasci la strada vecchia per quella nuova sai quel che lasci ma non sai quello che trovi però è così tutti gli effetti pensa a quanti quanti luoghi comuni vecchi che sto trovando per un mezzo nuovo come questo io sono dell'idea che comunque il calcio con i secondi ma non lo fai e parlare a priori è sempre dare alla bocca quindi sono sempre giochi secondo me queste chiacchierate poi puoi fare l'analisi a posteriori ma a priori non ci becchi mai certo e tanto perché siamo a priori Pjanic quest'anno secondo me ha iniziato la stagione in una maniera incredibile cioè ha fatto 3-4 partite che sembrava Modric per dirne uno sì poi il nulla tu credi che sia stato una tra virgolette cioè mettiamo proprio un milione di virgolette un ricatto nei confronti della Juve di dire io adesso qua non ci voglio più stare vi sto facendo vedere che qua non ci voglio più stare perché si è riacceso dall'ufficialità in poi si è riacceso allora all'inizio della stagione tu hai fatto bene a ricordarlo perché anche nelle trasmissioni televisive si diceva il gioco di Sari il gioco di Sari dicevo sinceramente sto vedendo il gioco di Pjanic eh sì è verissimo perché era lui era lui era lui poi ha avuto un periodo molto buio molto opaco che secondo me siccome poi le notizie si vengono a sapere dopo lo identifico proprio nel momento in cui c'è stato in qualche modo che è entrata si è messa in moto la trattativa con il Barcellona in qualche modo evidentemente aveva avuto sentore era stato informato aveva capito ho visto una discesa capito una curva che andava in giù nel rendimento che non si spiegava adesso si è liberato come dici tu cioè gioca sa che comunque il futuro è scritto sa che tutti sanno e può essere anche positivo io ti ripeto sono molto in difficoltà a dire come sarà comunque questo scambio dal punto di vista tecnico personalmente è vero ma poi da un conto se l'interessamento è un conto per acquistarlo se è vero che poi la Juve può prendere anche Giorginio bravo sei andato sulla domanda successiva ma è capito cioè mi interrogo su cioè quando fai un'operazione economica e finanziaria poi deve avere anche un ritorno calcistico in campo capito se tu Arthur lo scuri subito con Giorginio secondo me la devi spiegare si attendono spiegazioni passa tutto da lì perché devi capire Arthur dove gioca perché sulla carta è una mezzala ok e devi capire chi giocherà davanti alla difesa perché se rimane Sarri lui ne vuole tre un regista e due mezzali ok può farlo Bentancur verissimo può farlo come potrebbe farlo eventualmente Giorginio però io mi immagino Giorginio, Bentancur e Arthur secondo me un centrocampo un po' fragile con poca cioè molto tecnico e basta secondo me hanno caratteristiche troppo simili è vero quindi non ce lo vedo troppo simili non capisco hanno caratteristiche troppo simili un guastatore un un no ma al di là di oltre a Matthew D uno un amico grosso da portare insieme in discoteca che sei Bob Baumininkovi Savic bravo bravo quello suono quello suono quello suono sono assolutamente d'accordo però io penso anche che dipenda dalle uscite cioè in questo momento numericamente uno fuori uno dentro cioè è rimasto a sei e quelli che possono uscire non mi sembrano nomi così altisonanti da da farci mercato ricavarci e quindi io sono un po' titubante la vedo proprio lontanissima questa cosa però si Bob Ba è un sogno sempre che chi attira come i tifosi della Juve ma si anche perché lui non fa niente per non alimentare questo sogno non fa niente per non accendere le speranze che sono sue secondo me in primo luogo ma poi diventano ovviamente anche i tifosi secondo me si secondo me si è sua la voglia di tornare alla Juventus perché si è trovato bene ok capito e quindi poi che sia un'operazione unica nella storia del calcio mercato e o ti inventi qualcosa per far far bella figura al Manchester United o se no il Manchester United non la potrà mai fare questa operazione è un altro discorso il Manchester United non può permettersi di aver perso il giocatore a zero di averlo ripreso a 100 riperso ma sempre con la stessa squadra di mezzo tra l'altro una vergogna una vergogna incredibile sarebbe una cosa imbarazzante da spiegare poi in Inghilterra capito a chi la devi spiegare ai tifosi ai soci al board a chi la spieghi una cosa del genere ti dicono tutti scusa ma cosa stai facendo no capito sai con le quindi devi devi trovare una soluzione sicuramente infatti i paratici durante il lockdown disse se tu non puoi comprare una casa cosa fai vai in affitto sì l'affitto a me fa ridere perché non puoi affittare Pogba al massimo te lo prestano però non penso neanche te lo diano in prestito e dai ti faccio un paio di domande forse anche tra virgolette cattive pronostico di questa finale stagione della Juve tra Serie A e Champions ma guarda io sulla Serie A penso che la Juve si vinca lo scudetto e il pronostico direi è abbastanza facile sulla Champions solo faccio il pronostico giusto perché sei te e giusto perché capito con tutte le premesse del fatto che i pronostici in teoria non andrebbero fatti perché poi sei tra virgolette diventi virale puoi non farlo se vuoi puoi non farlo sei ancora in tempo non hai ancora detto niente ma guarda ti dico la squadra che per me è la più forte delle 8 però è pesantemente condizionato da questo lockdown è il Paris Saint Germain che pesantemente è condizionato certo cioè in condizioni normali cioè se il Paris Saint Germain per un miracolo si presenta in condizioni accettabili normali come tutte le altre per me è la favorita però nelle quattro semifinaliste Paris Saint Germain Juventus Bayern Monaco e City ok sei su queste quattro queste sono le quattro semifinaliste sei su queste quattro ok va bene allora col senno di poi torneremo a vedere questa parte va bene e poi Allegri o Sarri? no quello mi cogli mi becchi in una cosa che io so che è una domanda bruttissima cioè nel senso anche quando me la fanno a me io posso dire ovvio che sono più affezionato ad Allegri perché ce l'ho avuto cinque anni mi ha dato successo e Sarri non mi ha ancora finito una stagione però secca così io non sono io conosco Allegri da tanti 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 anni quindi io non sono non sono obiettivo non l'ammetto non sono obiettivo con l'obiettività che recupero immediatamente il giornalista e non da conoscente amico persona che si stimano eccetera eccetera ti dico che un giorno Luca rifaremo mi prenoto nuovamente per una live quando si capirà si capirà perché poi stringi stringi alla fine perché una qualsiasi azienda manda via il suo top manager capito dopo cinque anni con quei risultati lì capito io per seguire che cosa il gioco ho capito ma è come se tu dici se sei alla Fiat e dici no la macchina qual è la macchina la 500 è andata benissimo però la dovevi fare turchese e non me l'hai fatta ti mando via no non sono d'accordo io sono proprio d'accordo anche perché io mi ricordo la conferenza stampa di Allegri dopo due minuti feci un video perché dissi guardate prendetela con le pinze non ne so niente non so nulla è proprio una sensazione che ho io dopo aver visto questa conferenza ma Allegri più volte va a dire lancia delle frecciatine in conferenza stampa di addio perché in quel momento Allegri poteva parlare e Agnelli no perché infatti Agnelli dice preambolo di tutto parliamo solo di Allegri non parliamo del futuro del successore ed è lì che nasce la frase ci sono allenatori che vincono e allenatori che non vincono allenatori che arrivano sempre primi sempre secondi perché? perché vincono sempre gli stessi oppure io non ho ancora capito cosa voglio dire giocare bene giocare male io lì faccio il video e dico oh regà secondo me è Sarri cioè secondo me era Juve arrivassare no è vero è vero che lo sapeva già Allegri lì sì il nome che circolava che Allegri era stato riferito da diciamo amici era quello di Sarri però non è detto che lui si riferiva comunque dicino allora era in certi momenti quella conferenza come due persone comunque di 50 anni Allegri 40 agnelli che sfiorano le lacrime a più riprese tanta lucidità tanta lucidità non ce l'hai quindi delle volte sono le cose che ti escono dal cuore delle volte le cose che ti escono dalla testa quando c'è c'è un po' di cortocircuito capito valeva in generale magari aveva mentre parlava in generale aveva l'immagine di Sarri fumetto di Sarri capito anche perché era il periodo della follia cioè io sono andato a vedere i commenti poco tempo fa perché ho detto oh ci avevo beccato e la gente mi scriveva ma che cosa stai dicendo non lo sai arriva Guardiola arriva Guardiola al 100% mi dice la logica mi dice se mando via Allegri voglio migliorare e Sarri non mi sembrava e tuttora lo dico proprio senza pensare la lingua non mi sembra un miglioramento Guardiola poteva esserlo non dico lo è perché è tutto da verificare poi eventualmente però in quel momento mi sembrava già proprio deciso tutto ma io su Guardiola non so perché c'è stata quella cosa lì che è stata molto da un'infatuazione una suggestione capito da abbastanza difficile anche da comprendere perché poi in Inghilterra c'era Guardiola che diceva guardate resta a Manchester City sempre lui l'ha sempre detto capito eppure c'è stata questa cosa arriva Guardiola arriva Guardiola arriva Guardiola e più i giornalisti anche diciamo di una certa età dicevano guardate ai vari sui social eccetera non risulta Guardiola non risulta Guardiola e piano piano si restringeva capito i candidati eccetera e più si scatenava questa questo esercito social che io ti racconto un episodio mi trovo perché avevo andavo alla finale di Champions League mi trovo all'aeroporto di Malpenzo lì nato mi ricordo anche da dove partivo e c'era un sacco di tifosi su quel volo almeno una quarantina di tifosi della Juventus che avevano prenotato il volo e andavano lì a fare una gipita pensando alla finale di Madrid e all'imbarco le cose Sandro, Sabatini chi arriva mi dico guarda secondo me arriva Sarri no arriva Guardiola e arriva uno mi ricordo uno mi sono fissato io sono normale sono fisico normale però sto nominando sempre quelli grossi arriva uno grosso con la canottiera così secondo te chi è l'allenatore secondo me è Sarri e lui ha detto no è Guardiola allora cosa chiedi non voglio discussioni non voglio discussioni non era Ibra non era Ibra no no era grosso anche lui va bene oh Luca quanto si sta qui in diretta gli ultimi dieci minuti ti va bene devi scappare ok no no va benissimo va benissimo beh guarda prova a darti due risposte su questa cosa riguarda io la prima secondo me la logica di voler giustificare Allegri via e perché perché se no non si spiega la seconda perché ormai purtroppo internet un conto è se sei tu che sei giornalista scritto all'albo e quindi sei rispettabile e invece su internet sembra che ognuno possa dire quello che vuole che ci sia la libertà di opinione che spesso la libertà di opinione costa con il per dire se io ti dico che il cielo è verde e tu mi dici il cielo non è verde è azzurro e ti dico la mia libertà di opinione mi impone di potertelo dire esatto esatto mi consente di potertelo dire va bene dimmelo sì c'è qualcosa di non ma stiamo entrando anche in un tema che è abbastanza dibattuto adesso anche perché questa è una semplificazione volendo in apparenza ingenua delle fake news io io temo che alle spalle dietro le fake news io non sono uno dei retroscenisti complottisti eccetera eccetera però temo che le spalle dei fake news si agitano comunque dei dei poteri che può essere a me sembra che adesso però non c'entra niente cambiamo subito discorso va bene vado con un'altra che tra Cina e America ci sia in atto una guerra mondiale basata sul consenso sì sì è vero sul consenso dal consenso poi tu hai le possibilità anche di sviluppare tutto quel che vuoi economicamente ma prima di avere il consenso esatto però cambiamo discorso e questo non interessa ok allora ringrazio i ragazzi di Medina per il podcast e tra l'altro ricordo siamo 200 persone in questo momento circa di passare sul canale youtube di Sandro perché anche lui ovviamente si è dedicato a questo mondo digitale ci sto provando lo tengo lì e vediamo un po' ti piace però almeno guarda a me io sono un entusiasta un appassionato un appassionato di giornalismo di comunicazione in tutte le sue forme o purtroppo o per fortuna l'età per cui ne ho seguite tutte io tutte le 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 novità quantomeno le voglio scoprire le voglio le voglio studiare anche e voglio provare a vedere se possono essere gratificanti per me e e per chi mi legge per chi mi sente per chi mi guarda guarda ti faccio l'ultima domanda vai di bala e ronaldo si io l'anno scorso ero uno di quelli che diceva abbiamo ronaldo bisogna valorizzarlo si a costo anche di cedere di bala per un'evidente incompatibilità tattica che più volte è stata sottolineata sia da sarri sia da allegri quindi vuol dire che c'è è evidente non riempiono l'aria però posso volevo arrivare lì però io la pensavo come te ed ero di quelli che comunque diceva la Juve deve giocare solo e soltanto innanzitutto con un centravanti per valorizzare Ronaldo e Di Bala è scattato qualcosa tra di loro cioè io ormai lo vedi in questa ora ho fatto anche tanti esempi che sono proprio di vita quotidiana mi sembra che all'improvviso siano diventati amici cioè si sono detti guarda diamoci una mano tra di noi non litighiamo per mezzo 10 metri più in qua 10 metri più in là ecco mi sembra che sia una delle magari un giorno ce lo racconteranno come retroscena di spogliatoio quando Sari voleva far giocare Cristiano Centravanti di Bala alla destra o robe del genere un bel giorno loro gli hanno detto un giorno verrà fuori questa storia mister ci aggiustiamo noi là davanti stia tranquillo è già venuta fuori Sari è già venuta fuori è stato crocifisso per questa frase di si sono organizzate ma non è che ha detto autogestione fate voi non ha detto autogestione ed è anche normale che un allenatore chieda ai propri giocatori sembra logico mi sembra che oltre al capito mister ci organizziamo noi magari una pizza una sera se la sono fatta assieme Ronaldo non lo so se l'ha mangiata forse hai mangiato il pollo sì petto di pollo un bianco però adesso Sarri vedo che sta schierando una squadra che è un 4-3-3 finto perché è palesemente un 4-4-2 bravo per farli giocare lì vicino perché un contesto sono due fasce differenti non si parlano e invece sono già più efficaci ok benissimo io allora ti libero 50 minuti precisi ti ringrazio ancora ovviamente sarai invitato nuovamente ti sei già prenotato ancora una volta ricordo di passare sul tuo canale youtube io faccio due chiacchiere con i ragazzi e poi sta con te grazie mille buon pomeriggio buona serata ciao grazie a tutti voi alla prossima ciao